Anche la base militare di Gioia del Colle nel Barese è pronta a scendere in campo. Sono ore di fermento nelle basi militari italiane da quando il governo ha dato il proprio consenso ad aiutare i civili libici. Ieri infatti il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato la risoluzione 1973 che autorizza ad usare ogni mezzo tranne un'ivasione di terra per difendere i civili in Libia. Non ci sottrarremo ai nostri doveri, ha detto il ministro della difesa Ignazio La Russa, dichiarandosi disponibili a mettere a disposizione basi ed aerei per contribuire ad attuare la no-fly zone. Fra le basi candidate è appunto anche quella di Gioia del Colle nel Barese. Quanto all'eventuale impiego di aerei si starebbe pensando all'utilizzo dei caccia F-16 e degli Eurofighter. Possibile anche il ricorso agli aree RAV-8, particolarmente adatti alla missione di bombardamento delle difese aeree nemiche, riferisce una fonte, sarebbero inoltre i Tornado che furono impiegati per compiti analoghi in Kosovo assieme ai velivoli tedeschi.